Born or born? Qual è la differenza? Ciao sono Monica di ImparaL'IngleseConMonica.com e nel breve video di oggi andrò a svelarti la differenza tra queste due parole. Born, scritto in questo modo, significa nato. In inglese infatti potremmo definirlo come having started life. Una frase che vede questa parola protagonista potrebbe essere Jane was born in March. Jane è nata a marzo. Born, scritto invece in quest'altro modo, significa a carico. E' quindi un sinonimo di carried e una frase che vede questa parola protagonista potrebbe essere This risk is actually born by the state alone. Quindi il rischio è in realtà a carico del solo stato. Bene, per oggi è tutto. Io ti aspetto alla prossima lezione per una nuova coppia di Confusing Words.